Buongiorno a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi ho l'enorme piacere di presentare un interessantissimo romanzo storico molto particolare dal titolo Da dove vengono le idee di Annalisa Ponti, pubblicato da Libraccio Edizioni nel 2021. Sono 156 pagine per 12,90 euro, quindi una spesa assolutamente accettabile e accessibile a chiunque. È un argomento che riguarda soprattutto Milano, ma che ovviamente riguarda anche tutti gli appassionati di Medioevo. E io ho il piacere di dare subito la parola all'amica Annalisa Ponti che ci parlerà di questo Da dove vengono le idee? Prego Annalisa. Allora grazie mille, grazie a tutti quelli che avranno la pazienza di ascoltarmi. Questo a rovescio naturalmente è il libro con una bella copertina di una giovane artista che sta studiando all'Accademia di Brera, Giulia Capra. Intanto mi presento nel senso che di mestiere vero io sono un'insegnante di scuola superiore con tantissimi anni di editoria alle spalle, quindi per tanti anni ho lavorato nelle case editrici mettendo a posto i libri degli altri, facendo quel lavoro che si chiama editing che per me è stato una palestra di allenamento molto forte e che poi a un certo punto mi sono detta ma perché non provare a scrivere una storia? E in modo assolutamente inspiegabile questo mio interesse, non sono una vera scrittrice, sono alla seconda prova e chissà se uscirà un terzo libro, ma comunque questo mio interesse si è indirizzato verso il Medioevo. Medioevo che già mi aveva accompagnato perché anche se non era una mia prima scelta mi sono laureata a suo tempo in filologia romanza e quindi come dire mi sono ritrovata anni e anni di distanza a confrontarmi con quest'epoca di cui conosco sempre un po' di più perché ne sono sostanzialmente una onnivara lettrice che negli ultimi anni ha proprio scoperto nella divulgazione storica il suo genere letterario preferito. Ho messo un po' da parte i romanzi per dedicarmi invece alla lettura della divulgazione storica e poi perché probabilmente il Medioevo davvero adesso offre una varietà di letture, di interpretazione, di approfondimenti che riempiono di curiosità. Ecco, chi come me è appassionato e curioso di storia. Che cosa però si è trasformato tutte queste mie letture? Si sono trasformate in libri per ragazzi che sono lettori, diciamo, non come dire, lettori potenziali oppure ascoltatori perché soprattutto il primo libro, questo secondo me lo possono leggere da soli intorno ai dieci o undici anni, accompagnati dalla lettura d'alta voce di un adulto, possono da una parte seguire una storia, una vicenda più o meno tradizionale, più o meno inventata. Ma nello stesso tempo i personaggi di questa storia si muovono in un contesto che io cerco e spero sia il più medievale e rigoroso possibile perché da odiatrice dello stile fantasy io voglio proporre, mi piace l'idea di proporre da una parte un'epoca passata che è davvero molto lontana e molto diversa dalla nostra, dall'altro anche un'idea di medioevo che però si 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 basa su un'idea di vita quotidiana e di realtà assolutamente lontano dalla magia. Questa storia, questa seconda storia è ambientata a Milano dove in modo assolutamente inventato, non rigoroso, occasionale, ho attribuito a due sorelle l'invenzione dell'albergo con ristorante. Il tutto è nato probabilmente da una citazione, da una rilettura di Bonvesin della Riva, mio figlio al liceo doveva leggere, lo dico ma guarda lo rileggo anch'io che non mi ricordo, che a un certo punto cita su un po' più poche righe il Milano come città piena di locande sostanzialmente dove vengono raccolti tutti i visitatori possibili e immaginabili e mi sono immaginata invece una storia che nasce proprio nel passaggio dall'albergo gratuito, diciamo dall'obbligo verso l'accoglienza dei viaggiatori, ha proprio invece l'attività imprenditoriale e spontaneamente, un po' da vetero femminista come viene fuori ogni tanto, questa idea di trasformare un obbligo reciproco e anche misterioso e imbarazzante in un'attività commerciale, magari anche cercando di rendere il più piacevole possibile il soggiorno di chi si trova per necessità, per curiosità, per lavoro per esempio a viaggiare, mi è sembrata un'idea carina. Dopodiché con naturalmente a fianco delle sorelle abbiamo un aiutante che si introduce, che aiuta, che ha studiato un po' di più per cui è più bravo a fare i conti perché insomma queste ragazze sono piene di talenti e però come dire i conti papà non gliel'ha insegnato a fare, sono offane di mamma, vivono con un papà che le ha costrette per anni a seguirle in, a seguirlo in viaggi di commercio come mercante, viaggiatore e loro non ne possono più di dormire dove capita e quindi il loro sogno è quello di proprio di dare anche agli altri l'opportunità di dormire in un posto sicuro e gradevole come fossero a casa. Per cui accanto a queste due sorelle, una più grande e una più piccola, c'è questa aiutante, probabilmente nasceranno anche delle storie d'amore abbastanza buffe con testi rifacendomi un po' anche a esperienze che sono autenticamente medioevale. È chiaro che da una parte strizzo l'occhio ovviamente ai bambini, alle bambine di oggi, ma dall'altra mi sono ispirata a un sacco di letteratura medioevale. Tant'è vero che quello che forse mi è piaciuto di più in questo libro è stato poter, questo libro ha una narrazione abbastanza tradizionale con un inizio e una conclusione, con dei colpi di scena e qualche avventura, ma i capitoli ogni tanto sono interrotti, la narrazione principale è interrotta perché ho inserito delle storie, perché una delle due sorelle, oltre a essere una grande cuoca, è anche una grande narratrice. E allora alcune di queste storie le ho proprio inventate io, ma altre storie sono delle ovviamente adattamenti, riscritture di opere medievali famose o meno famose. Devo dire che sono state una scoperta per me meravigliosa, per cui come al solito, diciamo come un po' era successo nell'altro libro, io sono grata del fatto che a un certo punto mi è venuto in mente di scrivere questo libro perché il Medioevo si è rivelato ancora una volta una fonte di bellezza, di ricchezza, di varietà che non mi aspettavo, ecco, perché tutte le volte mi sorprendo. E niente, per cui spero che l'avventura di queste due ragazze, un po' una storia di imprenditoria femminile, diciamo, tanto di moda. Certo, spero che questa storia possa piacere, piacere sia un pubblico giovane, ma anche un pubblico, come dire, che ha voglia di seguire una favola, che ha voglia di leggere a voce alta una favola. Devo anche dire che quest'idea dell'albergo e del ristorante, perché tanto è dedicato all'albergo ma parecchio anche alla cucina, con ricette assolutamente strampalate da non ripetere, ma ingredienti rigorosamente filologici. Quest'idea era nata in un momento in cui, che poi sembra lontanissimo, ma era poco tempo fa, l'Italia stava prendosi definitivamente a questa dimensione turistica e culturale. Certo che il Covid ha tagliato le gambe a tutti, per cui un po' mi piacerebbe anche pensare a questo libro come un messaggio benaugurante verso un turismo e una riscoperta del nostro paese che speriamo possa riprendere presto. E questo è un po' il discorso complessivo. Quindi è singolare, ce lo dicevamo prima di cominciare la registrazione, perché è un libro che può essere letto da bambini, in età scolare ovviamente, ma può anche essere letto da giovani o anche da anziani, perché non è un saggio divulgativo di quelli magari un po' pesanti e difficili, non è un romanzo tradizionale, è qualcosa di diverso, è un po' favola e un po' letteratura. È una via di mezzo, un po' come anche l'altro libro che avevo scritto, con una storia lì più vicino alla realtà, perché la vicenda di Teodora si rifaceva più alla lettera a un avvenimento realmente accaduto, in questo caso di invenzione ce n'è moltissima, ma c'è anche il gusto del racconto. Ecco, che cosa, il fascino, adesso io spero di non aver tradito molto, ma i Lais di Maria di Francia sono di una bellezza meravigliosa, siccome non me li ricordavo dai tempi, quando li ho studiati a suo tempo, erano un capitolo così imparato ma poco vissuto, riprenderli in mano per esempio in quest'occasione, sceglierne uno per riprodurlo poi nella storia, è stata un'esperienza molto bella, perché il Medioevo ha una ricchezza e una profondità e una varietà, soprattutto di toni e registri, che è sempre bello esplorare. Poi spero di non aver fatto troppi errori da storica farlocca. No, ma non solo, cioè il Medioevo è sorprendente per molti versi, anche e soprattutto dal punto di vista letterario, perché ci si può trovare tutto il contrario di tutto, dai bacchettoni ai libertari, si direbbe oggi, con termini moderni. Assolutamente. Adesso credo forzando molto rispetto a un approccio realmente storico, anche la prospettiva della donna e delle ragazze in questo Medioevo che racconto io, è una prospettiva tutt'altro che umiliante, cioè anche luogo comune che le donne nel Medioevo, come i grandi numeri sappiamo benissimo, che hanno vissuto faticosamente come del resto quasi tutta la popolazione europea nel Medioevo. Però è una storia in cui in fondo questa positività di personaggi femminili non sono completamente inventati e non sono completamente forzati, perché molte, come dire, certe indipendenze, certa libertà di pensiero, certe figure a cui mi riferisco, femminili, eccetera, sono realmente tratte o ispirate a pagine autentiche di Medioevo, ecco, come dire, con la riflessione sul matrimonio piuttosto che sulla scelta del proprio destino, eccetera, eccetera, non ho inventato, ecco, o magari un po' scopiazzato da qualche pagina, ma mi piaceva anche raccontare il Medioevo come uno spazio in cui in fondo si possa trovare anche al punto di vista delle condizioni delle donne, delle storie belle, ecco, delle vicende forti, di protagoniste, ecco, le mie due sorelle sono inventate, ma solo delle protagoniste del loro futuro, del loro presente e del loro futuro. Infatti ultimamente anche la saggistica se ne accorta, sono usciti parecchi saggi dedicati alle donne nel Medioevo, dove si modificano quell'idea della donna cristallizzata in un ruolo secondario e subalterno e si scoprono delle realtà che molti ignoravano e che invece c'erano. C'erano, infatti io spero di avere un po' rimesso, cioè, come dire, è quello un po' quello che mi interessava raccontare, ecco, poi spero di non aver commesso troppe imprecisioni. Beh, allora io posso solo a questo punto invitare all'acquisto del libro, perché ne vale la pena, si legge con piacere, non è neanche impegnativo, quindi... No, no, va via, semplice. Un'ottima lettura, il titolo del libro è Da dove vengono le idee, l'autrice è Anna-Lisa Ponti, che abbiamo avuto il piacere di avere con noi. Sono 156 pagine per 12,90 euro, pubblicato da Libraccio Editori, edizioni nel 2021 da pochissimo, quindi io ti ringrazio molto di... Grazie a te dell'ospitalità. Figurati, è un piacere farlo come lo facemmo per l'altro... A suo tempo. A suo tempo, è un piacere starti ad ascoltare, così come lo sarà per chi leggerà il libro. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori di continuare a seguirci sul sito che è www.italiamedievale.org e speriamo di tornare in presenza quanto prima, sembra che le cose si stiano mettendo meglio e che presto potremmo tornare a rivederci anche fisicamente, perché nessuna videopresentazione può sostituire un incontro dal vivo. su questo siamo d'accordo. Grazie, Annalisa. Grazie a te e grazie a tutti. Grazie a te e grazie a tutti.